Buongiorno amiche, buongiorno amici, come state? Ieri mi sa che non ho... ho chiacchierato ieri, vi ho detto qualcosa, ma vi devo lasciare qualche immagine e dedicarvi un post. Il cielo per fortuna si sta celestando. Ceruleo, ceruleo, insomma, stavo spostandomi, stavo sbiurciando oltre la finestra. Ma insomma, vabbè, comunque meglio di questa prima mattina, sicuramente. Come state? Come state? Come state? La sentite alla primavera, ho i crochini che stanno sbocciando uno al giorno, che carini, nella vaschetta dei crochini, storici crochini. Questa mattina un'amica di maglia di uncinetto mi ha inviato la foto di un suo ciclamino, mamma, bello a tempatello. Anche i miei si stanno stagionando, sono contenta, è bello quando si ripresentano le stagioni e loro, anche se per poco tempo, ci fanno ciao ciao i nostri fiori. Ah, di cosa vi volevo parlare? Allora, intanto che mi devo dare una mossa, stamattina ho fatto tante cose e non sembra. Ho cercato, ricercato, guardato, studiato, ponderato, scritto, videochiamato. Oh, con la mia bambina mi sono videochiamata, non facciamo mai. Ma è a trovare la sua amica, la sua amica di liceo, la sua amica del cuore, che è tornata per un po' di tempo dall'Australia e poi ripartirà. Quindi sarà qua giusto un paio di mesi, due mesi e mezzo. E ho visto le ragazze, ho visto le mie ragazze tutte carine, là in mezzo ai monti, abruzzesi. Che bello, sono contenta. Camilla faccia le sue gittine. Oggi è il suo giorno libero, oggi sì. Sono così ballerini questi giorni liberi. Oh, questa settimana è martedì, poi ce l'hai giovedì, poi magari forse venerdì, poi forse non si sa. E vabbè, è così, così, questa nuova modernità qua, nuova, la nuova modernità. E va bene, e quindi sono contenta. Poi questa sera cena con altri amici di liceo, ma Roma, domani è al lavoro. E la mamma, la mamma la prossima settimana, la mamma la prossima settimana. C'ha da fare tante cose, mamma quanta roba in testa che la gara, mamma. Ma vengo a voi. Cosa vi volevo dire? Allora, c'è in prevendita il nuovo. Io ancora non mi sono gustato abbastanza il primo e sta uscendo il secondo. Eccolo qua. Ma vi ricordate che attesa, voi che avete acquistato il primo? La maggior parte, io credo proprio di sì. Poi ci sarà anche chi compra, che sì, vabbè, quante emozioni, quante storie, un manuale come un altro. Ma Line non è una rivista come un'altra. E purtroppo le mail sono tutte in inglese. Mannaggia, non ce le traduce nessuno. Però quel libro me lo sfoglio. Quale? Lui, lui è bello. Lui è bello, l'ho aspettato. Ma perché? È diverso. Non so, il calzino che io ho praticato molto meno rispetto a tutte le altre che ho praticato. Ho messo in pratica, ho concretizzato molto meno di sciarpe, beretti, scialletti, golfetti. Diciamo che io la maglia l'amo proprio per i calzini. Cioè, c'è un oggetto che mi entusiasma, un accessorio. Amaglia d'uncinetto, poi ne sta venendo di carini. Ah, vi devo poi fare quello che ho fatto Mignolo, facciamo anche Grandot. È carino, sono carini. I calzini un po' così. Che poi tanto rendono e affascinano se azzecchiamo colori e materiali. Perché a volte è un brutto materiale, poi ti dico, vabbè, ma cosa sarà mai? Invece cambia materiale, guarda che carino, metti bene i colori, guarda che bellino. Sono argomenti importanti. Colore e materiale. Oltremmo appunto è il design che va a supportare tutto il resto. Sono contenta, volevo dirvi, sono contenta. Come mai? Boh, non lo so, c'ho un freddo becca addosso, ho acceso la stupa un po' tardi. Ma serviva la stupa, sì, serviva la stupa. Devo correre a fare la spesa, volevo andare dalla mia ortolana. Mi sa che non fa in tempo arrivare dall'ortolana, perché lei me la mezza sbaracca. Che ore sono? E se sta già sbaraccando e quindi andrò al negozio. Mannaggia, mannaggia, ho saltato la mia ortolana stasettimana. E domani mattina non posso andare. Però mi potrei far lasciare il telefono, le posso ordinare. Ma perché domani mattina? E domani mattina c'ho da fare. E quindi non so se arrivo, abbiamo mica i chilometri, però con menù usci. Lascia la casa, eh sì, è certo. E quando la porto fuori, la mia bimba lenta, quindi esco con menù, mi parte la mattinata, dice fai un'uscita con un cane microscopico, te spicci, che no, la mia bimba, che non stava bene. Ieri è stata una brutta nottata e una giornata impegnativa con la mia bambina. Sono stata in associazione, mi sono iscritta. Ho dialogato con i miei compagni di corso. Ieri sono donne. Ma quanto sono simpatiche, quanto è bello quello spazio. Sempre in movimento, è sempre diverso. Ci sarà una serata a cena la prossima settimana, mi pare. Non oggi. Ieri ero confusa da tante cose, ma soprattutto da menù che voleva solo stare in braccio. Non voleva stare nella sua cucetta da sporto, con la pizza, con il suo cuscino. Non c'era niente da fare. Ieri piangeva, sbacagliava, voleva stare in braccio. Ma pure un ambiente carino, gradevole, caldo. Tra l'altro ci ha fatto trovare bello caldo il professor Mascagna. E tante cose belle ho visto ieri, come si sta bene, come si sta bene. E sono contenta. Non lo so con quanta frequenza potrò andare, però è libera questa cosa. Ognuno ha una sua scheda, si segna nei 15 minuti. Ognuno scala dalla propria scheda prepagata. Il tempo che trascorre in quello spazio. Ed è tutto oro comunque. Perché io ieri, anche se di manuale non ho fatto niente, ma la mia testa ha visto, ha preso appunti. Anzi, poi chiederò di nuovo delle cose che non potevo scrivere con la minuscola in braccio. Ho guardato quello che hanno realizzato gli altri. Si è parlato di strumenti, appunto, d'uso di materiali, di colle. Ne ho parlato una su delle colle, che non sapevo. Magari sono quelle cose che ti entran da una parte e ti escono dall'altra. Invece ieri ho focalizzato, ho memorizzato, insomma. È stato interessante. Quanto ti sei trattenuta? Un'ora e mezzo. Avevo l'autobus presto. Sono entrata a casa che non era buissimo, ma la minù proprio, povera ciccia. Non la potevo lasciare a casa proprio ieri, dopo una nottata in bianco, a fare il massaggio al pancino, a uscire alle 4 del mattino, per muovere le zampette e vedere farle passare con la colica. Da che è provocata sta colica? Non se ne sa. Oggi vediamo come va. Sto facendo degli esperimenti per capire che cosa ha, da cosa può dipendere. Ma minù è una cana emotiva. E quindi, chissà lei, cosa somatizza poi alla fine, che ne vado a sapere io. Non lo so, anche se ce l'ho sempre sotto agli occhi, anche in braccio. No, in braccio non ci sta poi tanto durante il giorno. Non lo so, sì, la cammela, vedete un po' come sto messa alla minù. Ah, le vado lì, mi accuccio per terra, le do i bacetti, dico, come stai? Le faccio tutti i versetti, sapete tutte quelle paroline? e poi mi fa e mi caccia quando mi vuole cacciare oppure sta lì con il musetto ma quanto è piccolo dieci anni di quel musetto piccolo e ancora mi stupisco di quanto è piccolo quel musetto gli unici cani che ho avuto sono stati degli all'asca ma l'ha avuto, avete presente? ecco, proprio due caratteri diversi lei poi fa una guarda ma cosa servono i cani piccoli? intanto si sta in compagnia e ti pare niente e poi guardate che Minou fa la guardia stanotte il Loreste fuori che non è entrato ha fatto un baccano che poi ho scoperto se è stato lui ma fino a quel momento mi ha preso un colpo che ci stanno per rientrare in casa che non sono riusciti la prima volta proprio grazie a Minou ecco, ho sentito un bombotto proprio lì dal cancellino ho detto che caspita pensavo un dispetto poi ancora una seconda volta e Minou che abbaiava poi mi sono affacciata dal balconcino chi era l'Oreste che faceva il cretino con un altro gatto mai visse conosciuto ecco, zompavano nella mia terrazza facevano gli equilibristi sul cancellino ma i gatti i gatti sono creativi eh qua sono proprio buffi i gatti ma anche i cani ma intanto di che ci chiacchiere? oh, vi dico che c'è la prevendita c'è la prevendita uscirà 52 settimane di calzini volume secondo ma sapete che temo un po' lo temo perché sono stata così felice eravamo chiusi tutti in casa mi sa quando c'è stata in atto la prevenita del primo di lui lui così bello così bello in lino coperto di lino meraviglioso beh, libro mi è piaciuto tanto mi è piaciuta la proposta quando poi c'è stata la la donata niter portate e mandate i vostri schizzi per la selezione per il numero dedicato agli scialli e dico ah, mo partecipiamo eh avevo le ragazze in casa ma era tutto troppo nevrastenico per concentrarsi su quella cosa avevo già lo scialle avevo già l'idea avevo già gli schizzi correndi e dico ah vai famolo poi non mi hanno dato retta e io tante cose da sola non le riesco a fare tu avevo pazienza però era una buona occasione sarebbe stata una buona occasione per unire l'Islanda all'Abruzzo avevo pensato giusto eh un po' di nicchia al mio ad esempio di progetto perché ho usato uno dei prodotti che ho operato è un prodotto artigianale sono dei pezzi unici quindi c'era la possibilità di creare comunque dei pezzi unici perché quella cosa aveva un suo perché nel titolo e nella dimensione nella forma nell'unione dei materiali nella tecnica utilizzata e insomma aveva un suo perché ce l'ha tuttora e poteva avercelo anche con colori diversi certo cambiando il nome oppure utilizzando la variante semplicemente variando e basta comunque sono contenta di quel tentativo però poi ho visto il libro diciamo che non è che sì bello lo vorrei anche avere ma se non ce l'ho ancora un motivo ci sarà perché mi ha innamorato meno diciamo è stato tutto giusto quello che ha accompagnato 52 settimane di calzini one uno giusto il momento giusto l'accessorio giusto per me ecco diciamo con me parlo di me ecco non è che sto togliendo significato o valore alle altre edizioni perché poi è uscito anche il numero dedicato ai piccoli progetti quelli da farsi velocemente e carino carino ma lui lui è arrivato come proprio bello belle tutte le location bella la varietà perché per me ad esempio scusate è un ottimo strumento di chiacchiera riflettere su come i vari filati hanno reso qual è il filato più adatto per fare i calzini ed ecco lì che ci colleghiamo ad argomenti e chiacchiere precedentemente condivise ed è uno spunto secondo me fondamentale per sostenere altre chiacchiere parto spesso da lui uffa la tossaccia mi sono infilata dentro la stufa prima mi sono intossicata non voleva partire oh allora le aspettative riguardo al secondo vedete qua come tutto nature erba secca colore abbigliamento scarpete insomma è particolare e qui che cosa abbiamo abbiamo un colore flu abbiamo un momento di relax sembrerebbe questa posa quella seggiolina carina molto nordica con i colorini quel celeste con quel lime quella manichina lunga quel jeans chissà sì sono curiosa in questo momento in cosa investirei anche come manuali diciamo l'ultimo manuale che ho acquistato è stato proprio quello dedicato ai calzini realizzato da Emma Fassio e da Federica Moro e stavo guardando altri manuali sempre di Emma Fassio mi piace mi piace la dimensione mi piacciono gli argomenti poi lei è una persona chiara non ho ancora ben capito quello dei calzini perché gli ho dedicato poco tempo ce l'ho meno male io non ho un comodino un baula portate di mano è lì vicino a me poi quando arrivo a letto sono finita la sera non lo so sono anziana faccio poche cose eppure mi stanco mi stanco non rendo più come una volta mi sperdo mi dispalmo nell'acqua della giornata e faccio molto meno cose di prima sei contenta? no ma devo fare i conti con qualcosa di inevitabile evidentemente vabbè chi hai? ah vabbè comunque l'entusiasmo non scema chissà le battute sotto c'è le pernacchie alle nemiche ai nemici quindi sì sono contenta di questo numero adesso dico al babbo visto che ha sponsorizzato il primo che sponsorizzasse magari anche il secondo ne sarei felice e altri manuali che vorrei ma lui sì lui sì però sapete che temo perché il primo bacio non si scorda mai il secondo bello sì però vorrei le stesse emozioni insomma vorrei vorrei vedere tante cose belle comunque line è bello perché non propone mai un capo in un'unica posa insomma si entra dentro in inglese io vorrei leggere in italiano è la mia madre lingua voglio leggere in italiano non è possibile mai che sia così oneroso così impegnativo produrre questi bei manuali anche in lingua italiana mannaggia vabbè 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 poi ce n'è uno due sul fair eyes sì due due ce n'ho due in lista poi vediamo un po' un po' chiari fatti bene sempre torniamo a Emma Fastio ce li dai in italiano quindi sul bottom up sulle costruzioni bottom up e sul top down due numeri numero uno e numero due ma secondo me averli nella biblioteca così un riassunto diciamo è vero che possiamo trovare molto in rete ma io non sopporto di dipendere da un ammenicolo come quello che abbiamo davanti che già c'è la tastiera a parte perché la tastiera del fisso non funziona è fisso è portatile è mobile del portatile non funziona che noia e poi voglio il rumore la luce c'è il sole non vedete bene la batteria che si scalca portati l'altra che noia invece avere lì i nostri appunti il manuale il manuale che lo sfogli e lo risfogli la carta la matita la penna il righello la squadra la gomma sono contenta mi piace così voglio la carta voglio tanto poi alla fine si perde tutto quindi si perde tutta la io ho scaricato dei libri acquistati degli ebook vate alla pesca dovunque le cassone di computer che continuiamo a portarci appresso staranno me li verranno cancellati io pensavo fosse su questo portatile ma vabbè le cose si perdono tanto tanto elettronicamente modernamente scaricati accumulati che cartacei e quindi preferisco la carta ecco comunque preferisco la carta la stampa e sono contenta sono contenta allora poi cosa vi dico vi dico che oggi cercherò di registrarvi il tutorial del punto che ho utilizzato per il mio berreton eccolo qua il berreton eccolo lì sta in piedi da solo e ieri l'ho usato ieri sono uscita con i capelli umidi senza capello perché non li volevo spiaccicare e ho fatto la coda ma quando faccio la coda poi mi prendo una bella piega e invece tonta mia mi sono gelata la testa tempaccio brutto ieri nebbia umido mannaggia poi li ho lasciati sciolti i miei capelli quando in associazione sono asciugati per bene poi ho messo il berrettone prima di uscire ho fatto un errore una considerazione stupida ma è proprio scappata è bello che ci ho anche pensato ci ho anche ragionato e ho deciso così perché poi risolvo un accidente ho fatto una stupidaggine poi ve la faccio vedere ho ancora da fermare delle codine vi faccio vedere anche quelle ci sono uscite ma sì ma che importa mica rischio e parleremo dell'uso dei materiali dei colori lo spunto che poi prenderemo da questo berretto sono contentissima perché mi piace che poi alla fine alla fine vabbè ma ne parliamo tutto poi poi quando affronteremo la tecnica insomma questo è un motivo che si sviluppa in giri di andata e basta quindi in tondo in linea non dà lo stesso risultato anche se il punto più d'effetto si realizza diciamo sempre sul dritto visto che sono solo due giri ecco il giro di maglia bassa se noi lo andiamo a fare sul rovescio del lavoro diciamo quindi avremo al dritto il rovescio della maglia bassa non mi piace quindi non ve lo consiglio poi è un gusto a gusto vostro vedete vedete un po' se volete provarlo in linea se avete in mente delle varianti a me non piace mi piace proprio così e sono soddisfatta del colore che ho che è emerso diciamo mi piace questa successione di colori di punti e di consistenze è bello tosto stampiti da solo ma che bel caldo ecco di questo ho bisogno dei berretti adesso penso solo ai berretti non penso più ai baschi i baschetti che sono i miei cappelli preferiti i miei copricapi preferiti alle coppole ce l'ho ancora non è arrivato il momento di metterle ma forse stamattina ma mi devo tagliare un po' i capelli per indossare la mia coppola basco e invece i berretti che mi tengono bene la testa che mi fanno caldo mi proteggono dalla nebbia e dall'umidità lo so siamo ancora in inverno ragazzi che pretesa lo so ma due giorni fa tre giorni fa un sole che meraviglia stare al sole ecco te fatto va bene basta vi volevo solo dire questo quindi ecco qua dove lo potete prenotare questo libro se volete anche presso la redazione di line insieme a qualche altro numero oppure nei vari negozi online e non online di filati che vendono filati e attrezzi quelli più organizzati diciamo quelli che le chicche ce le propongono che ce le mettono lì a disposizione senza dover spatriare ecco ci sono sì c'è anche Penelope Penelope che non ha più il sito attivo quindi bisogna contattare la signora Claudia Zengiaro su Facebook purtroppo è così e non c'è più questo modo diretto di questo approccio diretto con i loro prodotti quindi bisogna passare attraverso Facebook e poi farsi dire insomma cosa c'è a disposizione e neanche loro hanno la possibilità di di offrire la prevendita di questo numero o poi insomma ce ne sono diversi ecco in Italia quello che vi è più simpatico quello con il quale vi trovate bene quello che magari vi dà la possibilità di ordinare qualcosa che vi serve e ce l'hanno solo loro insomma le possibilità non mancano ora vi saluto vi saluto vado mi preparo vado al negozio ormai ho salutato la mia ortarola la mia fruttarola mannaggia vabbè pazienza mi dovevo scantare prima vedo che mi sono svegliata anche abbastanza presto ma è così la mattina io sono lenta fra una roba l'altra scrivi chiama fai briga e la stufa la colazione poi mi sono mangiata che un'arancia che buona che buone le arance però non le posso mangiare frequentemente ma me la sono gustata una buona arancia naturale non trattata con la scorza che ho già messo nel bollitore dove adesso metto l'acqua dove metto anche il caffè di cicoria quindi la radice di cicoria tostata e mi preparo la bevanda per il dì le scorze non le butto no ecco quelle soprattutto così belle profumate non trattate ieri ho portato in associazione le castagnole al cucchiaio cosa vuol dire al cucchiaio che non è un impasto che va maneggiato con le mani e non serve alla spianatoia se non come supporto alle ciotole che ho insozzato una no due due perché come dice il buon Massari le farine le ho setacciate due volte insieme al lievito e sono venute buone e allora ho scritto la ricettina perché ho fatto una variante ora la scrivo la metto da parte poi vi sto preparando una sorpresa un abbraccio a tutte a tutti buon buon sabato no non è sabato è venerdì oggi niente carne oggi ho tirato fuori un 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 cicciolo un ciocciolo un robo di salmone che mangerò crudo appena marinato sul gelato si scongela cicoria ce l'ho già e poi cosa ci mettiamo insieme ma ci metterò insieme dei cannellini o fagioli bianchi di spagna no i cannellini mi spinano di più col salmone i fagioli bianchi di spagna più il merluzzo e la ciccia oggi niente ciccia cannellini cannellini salmone e cannellini salmone e cicoria e questa sera minestra va bene e domani chissà chi lo sa un abbraccio ciao ciao